Comunico nel mondo, secondo appuntamento con il teatro per i ragazzi della Mirabella Montessori di Alcamo, di scena dopo il piccolo principe, la madre di tutte le fiabe, la bella e la bestia. Nelle interviste Provenzano Caterina, esperto teatrale, Grimaudo Maria, tutor ed insegnante e anche in questo servizio sentirete i ragazzi, i protagonisti del progetto. Abbiamo scelto questa fiabba perché penso che sia una fiabba molto ricca di significati e di morale. Hanno avuto la capacità di emozionarsi perché il teatro è una forma d'arte in cui è possibile sprigionare le proprie emozioni. Hanno imparato la gestualità del personaggio, salire su un palcoscenico e affrontare il pubblico è senz'altro un modo per accrescere l'autostima. Di conseguenza il ragazzo da grande potrà affrontare il mondo senza avere paura di essere giudicato dagli altri. Questo progetto è stato una fonte di ricchezza, di scoperta e di piacere sia per le insegnanti che per gli alunni. Devo ringraziare la dirigente che ci ha dato la possibilità, è vero, di portare avanti questo progetto PONNO. I genitori degli alunni che hanno dato la possibilità di partecipare, di collaborare. La mia tutor, la quale mi ha supportato e sopportato per certe versi. Ci siamo tanto divertiti e soprattutto abbiamo avuto motivo di crescere. Non solo i ragazzi ma anche noi hanno fatto conoscenza perché le classi non sono tutte della scuola media. Anche noi li abbiamo conosciuti, abbiamo relazionato, ci hanno insegnato qualcosa. Cosa ospiga che rimanga loro? Un'esperienza positiva e soprattutto che cresca l'autostima. Molti di loro non volevano recitare, infatti molti hanno fatto le scenografie. Ragazze che non volevano proprio salire sul palco invece poi alla fine si sono convinte. Dovevo dire che qualche mamma mi ha anche ringraziato perché ha superato la sua insicurezza. Abbiamo imparato molte cose. L'esperienza è stata bellissima e molto toccante anche, emozionante soprattutto. Ci ha arricchito molto di insegnamenti e soprattutto ci ha aiutato a collaborare tra noi ed aiutarci noi piano piano insieme. Ci fa provare delle emozioni, infatti la bestia è ricca di emozioni. Per alcuni, compreso me, è la prima volta di stare su un palco, essere timidi. Però poi superando con tutte le prove che abbiamo fatto, abbiamo capito che dovremmo recitare la nostra timidezza. Siamo nella parrocchia del Gesù Cristo Redentrore. Ringrazio Don Francesco che ci ha dato l'opportunità di avere questo palco per accogliere i genitori che possano vedere il lavoro svolto nel pomeriggio con tanto sacrificio da parte degli alunni. Ragazzini di 10-11 anni per inviare un messaggio a tutti quanti, un messaggio di pace, di integrazione e di inclusione. Sono veramente contenta di questo lavoro che è stato fatto da tutti i miei docenti. Abbiamo scoperto amicizie che noi manco sapevamo esistessero. Anche se già queste amicizie esistevano, le abbiamo strette ancora di più, le abbiamo cementate. Ci siamo divertiti a fare questo progetto, ci siamo aiutati a vicenda. È stata una bella esperienza, la consiglio a tutti, la rifare mille volte. Ciao!